Vasco Cagliarelli, segreteria regionale CGL. La vittoria del no è una deriva populista e di destra? No, anzi, tutt'altro. È un segnale di grande civiltà democratica, la grande partecipazione che gli italiani hanno fatto nel voto di questo referendum, che ricordo non aveva la necessità del cuore, ma invece quasi il 70% degli italiani hanno partecipato al voto, quindi un voto popolare grandissimo, bellissimo, e che dà una risposta forte sul merito, sul fatto che una riforma costituzionale come quella che era stata avanzata era una riforma costituzionale sbagliata, è stata rispinta giustamente dai cittadini italiani, perché si rendono conto che la vera emergenza in questo Paese sono le questioni sociali, le politiche economiche che vengono fatte e non una riforma costituzionale. La Costituzione non va cambiata, va applicata.